Benvenuti al corso d'italiano B1 大家好,欢迎来到 italyu B级别教程 Io sono Suzy Lezione 6 Adjectivi interrogativi e pronomi interrogativi Iwen xinronzi, Iwen taizi Ciao ragazzi, bentornati Oggi impareremo adjectivi e pronomi interrogativi 今天,我们来学习 Iwen xinronzi 和 Iwen taizi Prima di cominciare, vediamo 开始之前,我们一起来看一下 Uno Qui è quella ragazza? Qui è quella ragazzo? Qui sono quella ragazzi? 这边的 qui,谁,是我们今天要学的第一点 qui,我们从学习意大利语一开始就接触到了 平时呢,我们会用 其实呢, qui作为疑问代词 其单词本身的词形是不变的 也就是,其音,阴阳和单复数是不变的 并且,它指代的呢,总是人 在 qui的前面呢,我们也可以加上前置词 d, da, per, con,或者 a diki属于谁的 daki,谁那里 perki,为谁 con, chi,和谁 a, chi,谁 比如 di chi è questa penna? 这只比是谁的 di chi sono queste penne? 这些比是谁的 da chi vai a pranzare? 你去谁那里 吃午饭 perki è questo messaggio? 这条消息 是给谁的 con, chi è si questa serra? 你今晚和谁 一起出去? a chi piace questo cd? 谁喜欢 这张cd 接下去 我们来看 第二点 quale colore hai schelto? 你选了 哪一种 颜色? quale camicia preferishi? 哪件 衬衫 你更喜欢? qual è il tuo cantante preferito? 哪位 是你 最喜欢 的 歌手? quale libri hai comprato? 你 买了 哪本 书? quale lingue vorresti imparare? 你想学 哪种语言? 在上面的 这些例句中呢 我们既发现了 quale 哪个 也发现了 quale 哪些 quale 既可以做 疑问形容词 也可做 疑问代词 简单的 简单的说 当其后面 为名词时 它既为 疑问形容词 当其后面 为动词时 则为 疑问代词 此外 其词形呢 只有 单 复数的变化 没有 阴阳的变化 一般呢 用来指代 某人 某物 或 多人 多物 作为单数的 quale 遇到 以 sr 变味的 以原因 打头的动词 quale 要断音为 quale 这时 要注意 不需要 加声音的 apostrofo 一小匹 如 quale 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 则不需要 断音 比如 quale amica voy invitare acena 你想 邀请 哪位女性 朋友 吃晚饭 quale il duo piato preferito 你最 喜欢 哪道菜 quali jogatori ai comprato 你 mai la nese wan ju quali sono le lingue che vorresti imparare nese 是 你想 学 de 语言 根据 位语 动词 所搭配的 前置词 我们也可以 把前置词 di a in da su con per sopra soto 放于 i quale quali 引出的 疑问句前 比如 sono de linter 我是国际米兰的 那么 针对 你属于 哪个球队 提问时 我们要把 di 前置 放于 quale 前面 编为 di quales quadras ai 再如 asomio a ting ting 如果针对 你长得像 哪个人物 提问 那么 我们同样 可以把 动词短语 asomigare a 长得像 某人中的 前置词 a 放于 quale 的前面 a quale personaggio asomigui tongli mio fillo enato nela duemila 那么 我们一起想想 如何提问 你的儿子 在哪年 出生的 对了 我们要把 前置词 in 放于 句首 然后 夹 quale 问句 就可以 变为 in quale ano enato duo fillo 接下去 请同学们 尝试根据 回答 用前置词 夹 quale 进行 提问 Voglio andare da quella parte 我想 去 nei bien ni sang 去 nei bien da quale parte voy andare voyo investire sul in mobile 我想 投资 fong chan ni sang 投资 ne ga handan sul quale attività voy investire vado al lavoro con la metropolitana vado tie tie sang bain nizu ne jong gong jong 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 sang ban con quale mezzo pubrico vai al lavoro vai i i i nei nizu jong jong con kwale koragio hai parlato con tuo padre kosi vado allestero per motivo di studio wo we sue sia chukuo ni vai ho chuh hi Per quale motivo hai deciso di andare all'estero? La chiave è sopra il libro. Giaoshi è in un libro. Sopra quale libro? Il cd è sotto il giornale. Sì lì, cd è in un libro. Sotto quale giornale? Dì sàn tiè, no, o'ma la càn che, che cosa, che cosa, che cosa facciamo oggi? Che cosa facciamo oggi? Cosa facciamo oggi? 以上三个例句呢,都是我们今天做什么的意思. 事实上, que, che cosa, che cosa, che cosa, che cosa,都解释为为什么. 并且呢,词形都不变,一般呢,用来指代某物,某事. 只是 que呢,既可做疑问形容词,也可做疑问代词. 而, che cosa, che cosa, che cosa,只能做疑问代词. 这边呢,我们以, che,作为疑问代词,举几个例子. 发生什么事情了,也可以说, che cosa è successo? Cosa è successo? 又如 Che studi? Che cosa studi? Cosa studi? 我们再以, che,做疑问形容词,来举例. Che ora è? Che ore sono? 几点了? Che lavoro fai? Che lingue parli? 你说什么语言? Che giorno è oggi? 今天星期 di? Che tempo fa oggi? 今天天气如何? Che libro leggi? 你在念什么书? Che piatto cucini? 你在做什么菜? Che fredda hai di partire? 你有什么急事,要出发呢? 根据位语动词和前置词的搭配, 前置词 di, a, in, da, su, con, per, 同样也可以前置, 放于 ike引出的疑问句前. 比如,谈论某事, 我们用 parlare di, 那么, 你和他谈论了些什么? 我们要把前置词 di, 放于 que的前面, di che hai parlato con lui? 或者, di che cosa hai parlato con lui? 或者, cosa hai parlato con lui? servire a, 用于干mosi, 那么, 这些工具用于干什么呢? 我们把前置词 a, 提前, 再加 che, a che serve quest'attrezzo? a che cosa serve quest'attrezzo? a cosa serve quest'attrezzo? in via, 在某条街上, 在某条路上, 那么, 住哪条街, 要把前置词 in, 放在 que之前, 引出整个问句, in que via abidi? 这时, 请大家注意了, 这边呢, 我们不能讲, in que cosa via abidi? 也不可以讲, in cosa via abidi, 因为这边的, que呢, 是作为, 一问形容词, 而 que cosa, 和 cosa呢, 只能做, 一问代词, 你去哪边? 我们用 da, 加上 que, 引出, da que parte vai? 我的论文, 谈及什么观点? 谈及设及关于, 我们用前置词 su, 所以, 整个问句可以说, su que argumento posso fare la tesi? nutella是用什么做成的? con que é fatta la nutella? con que cosa é fatta la nutella? con cosa é fatta la nutella? roma y什么出名? per que cosa é famosa Roma? 最后一个, 既可做形容词, 又可做代词的, 一问词呢, 为quanto? 我们先来看一下, 这几句, quanto caffè voi? quanta pasta mangi? quanti ragazzi hai invitato? quante persone ci sono? 同学们有没有发现, 这里的quanto, 要随着其后面名词的阴阳, 单负数的变化而变化, 即quanto有性和数的变化, 一般用来询问数量, 既可指代人, 也可指代事物, 我们再来看一下以下例句, 请注意了quanto的词形的变化, quanto tempo ci vuole da Roma a Milano in treno? 做火车, 从罗马到米兰, 要多长时间? quanta carne mangi alla settimana? 你每周吃多少肉? quanti amici hai in Italia? 在 Italii你有多少朋友? quante sigarette fumi ogni giorno? 你每天吸多少 yen? per quanti hai preparato stasera? 今晚你为多少人准备了? vorrei delle mele verdi, 我要一些绿苹果 quante ne vuole? 你要多少? 最后一点呢, 我们来看一下 一问形容词和一问副词 引出的感叹句 我们呢, 先来念一下 以下两组句子 che dici? 你说什么? che dici? 你说什么呀? quanti libri? 几本书? quanti libri? 那么多本书 大家在这里呢, 有没有发现 同样的句子 改变了句尾符号后呢, 其语音语调也随之改变, 并且句译也不一样。 一问形容词 或一问代词 che quale che quanto 也可以引出感叹句 a qui lo dici? 引声含义 你不用说了 che l'avrebbe mai detto? 谁又会想到呢? quale honore? 什么荣誉啊? che stupido ho dimenticato l'ombrelo all'ufficio postale 太愚蠢了 我把雨伸忘在邮局了 che bello 太美了 太棒了 che caldo 太热了 che gente 带便宜 什么人呐? quantifimi interessanti questano 今年有那么多 让人感兴趣的电影 quanta gente 那么多人 怎么样? 大家对这四个一问词 有没有理解呢? 这里呢, 请大家用 che quale che 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 cosa cosa quanto 来天空 请注意其词形的变化 uno che hai regalato a tuo fratello? che cosa hai regalato a tuo fratello? cosa hai regalato a tuo fratello? due per quale motivo impari l'italiano? tre chi era al telefono? quattro da che dipende se vieni o no? da che cosa dipende se vieni o no? da cosa dipende se vieni o no? cinque qual è stato il motivo un motivo più importante della tua vita? sei da quanto tempo studii l'italiano? sette non è venuto neanche oggi? ma che strano! otto mamma mia quanti libri! 大家都 完成得怎么样? 这里 我们以表格的方式 再来总结一下 qui 作为疑问代词 谁 词心不变 只指代人 在用 qui提问时 其前面可以加上前置词 di da per con 或者 a quale quali ne go ne se 既可以做疑问形容词 也可做疑问代词 词形只有单复数变化 没有阴阳变化 一般用来指代某人 某物 或者 多人 多物 单数形式的 quale 遇到动词 e 或者era 要声音为 quale 变为 quale quale era que 或者 que cosa 和 cosa 都解释为为什么 并且词形不变 一般都用来指代某事 某物 只是 que 既可以做疑问形容词 也可做疑问代词 而 que cosa 和cosa 只能做疑问代词 quanto 既可做疑问形容词 也可做疑问代词 并要随着其后面的名词的阴阳 单复数的变化 而变化 一般用来询问数量的多少 既可指代人 也可指代事物 根据位语动词和前置词的搭配 在这四个疑问句前呢 都可以 以前置词 加疑问词 的形式呢 引出疑问句 最后 理论者 也计判词 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 e sceneggiatore italiano. Silvio Mucinono è un'Italia演员, dottore e giustizia. Tà huè i Dao. Ho appreso 80, non avevo studiato, ma sono stato molto fortunato all'orale. Ho fatto una tesina video un po' commovente e li ho convinti tutti. Ti ricordo che ho? È stato un incubo. Me lo sogno ancora la notte. Per quanto riguarda la preparazione, che dire? È stato un mese terribile. Valerio Mastandrea è un attore italiano di teatro, cinema e televisione. Non ricordo molto degli esami. Sono passati troppi anni. Ma ricordo che ho consegnato il compito di matematica in bianco. Un mio compagno mi ha passato le soluzioni, ma io non l'ho volto copiare perché tanto era inutile. Quando si è sposato, ho fatto corniciare il foglietto che mi ha passato e quello è stato il mio regalo di nozze. Pasquale di Molfetta, ovvero Linus, è un conduttore radiofonico, personaggio televisivo e scrittore italiano. È noto come direttore artistico di Radio DJ, DJ TV e M2O. Io ho fatto tre volte la terza superiore, perché in quegli anni cominciavo a lavorare alla radio e quindi ero uno studente molto distratto. Comunque, quando ho fatto gli esami di maturità, ero più distaccato rispetto ai miei compagni. In pratica, mi sono limitato a studiare quello che pensavo e avrebbero chiesto. A tutti i ragazzi, auguro comunque di rendersi conto che all'esame non dipende la loro vita. Carlo Luccarelli è uno scrittore, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo e giornalista italiano. Carlo Luccarelli è un'Italia giocciata, dottore, giocciata, giocciata e scrittura. Il suo dottore è una specie di terrorismo nell'aria durante gli esami di maturità. Ti convincevano che dovevi sapere tutto e che comunque ti avrebbero chiesto ciò che non sapevi. Passavo l'ultimo mese e mezzo a studiare e basta. Alla fine ero davvero terrorizzato, ma non avevo con me nessun portafortuna, non come un amico che ha deciso di indossare la camicia con cui ha sostenuto l'esame di terza media. Alla prossima puntata! Ciao ciao! 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 Amén.